29esima giornata del campionato di Serie D, girone di a 10 gare dalla fine, i verdi azzurri di Mister Incerti si trovano in una comoda posizione di classifica occupando l'ottava casella a 6 punti dai playoff, ma che comunque viene dalla sconfinta esterna contro il Borgo Sandonnino. Più complicata la situazione del progresso che occupa la terz'ultima posizione con appena una lunghezza di vantaggio su quella che ad ora sarebbe una delle due retrocesse dirette insieme all'Atrizio, proprio il Borgo Sandonnino che nell'ultima gara ha sconfitto il Seravezza. Apertura sull'altro terzino, Mele che prova a prendere un po' di spazio per concludere, traversa di Mele dal niente, prova il lancio per Damauri, ci può arrivare il numero 9, molto veloce, prova a stezzare, sterza, prova a mettere il pallone sul destro, scegliendo Diana, apertura dall'altra parte dove Cavalli può ricevere, mette in mezzo per Benedetti, colpo di testa. Può anche pensare al tiro, Bedini va invece in mezzo per Cavalli, la prende il... Non scelto da Cavalli, si va invece al limite da Bedini, di testa Benedetti, prova a girarsi, ancora il numero 20, servito Diana che va a mettere il pallone in mezzo, prova a staccare Fantini, non c'è fallo su Celeste, allora può giocare il Seravezza con il destro e il vantaggio dall'uomo che non ti aspetti, Mafei, il centrale di difesa, trova il varco giusto per infilare Celeste sul primo palo e portare in vantaggio il Seravezza. Lo scarico per Esposito che mette il pallone sul destro, alza la sfera, la palla sottoporta per il sinistro di Cantelli. Si può mettere il cross e Bresciani arriva, la palla per Fantini che di testa fa 2-0 sul cioccolatino di Nicolás Bresciani che da sinistra mette il cross, Fantini non manca l'appuntamento con il 2-0. Bedini intercetta il passaggio, allora serve subito Kouassi tra le linee che prova a calciare. 14 minuti di recupero. Occhi aggulinati in area. Che riceve nuovamente dal suo terzino. Imbucata lunga per il tocco di Esposito e allora dopo 40 secondi il gol di Esposito si riporta subito sotto il progresso con il 2-1. Può partire Gulinatti col Mancino. Scavalca la barriera e c'entra il palo. Secondo legno per il progresso sfortunato. Sventagliata di Diana per Mariotti che mette giù il pallone in qualche maniera. Calcia poi Mariotti sul primo palo con il sinistro. Arriva però il calcio d'angolo sul secondo palo. Bagatti mette la palla lì, poi si gira Cavallini. Bortoletti prova ad arrivare, si disturba con Kouassi. Poi Kouassi trova una gran traccia per Mariotti. Mariotti sterza a Mariotti. Freddissimo Mariotti che guarda il portiere. Non calcia di potenza, la mette sulla parte opposta rispetto al movimento di Celeste. Fa 3-1 ma gran giocata di Mariotti. Scaricare per Cantelli che fa la finta di crossare con il destro. Il cross arriva col sinistro. C'è la grandissima parata di calzetta da Mauri. Diana da Mauri passa, da Mauri salta anche il portiere. Attenzione va giù, non c'è niente. Allora Mele il destro, c'è fallo in attacco. Arriva però il triplice fischio. Il direttore di gara, il signor Enrico Cappai, finisce 3-1 con le reti. Di Maffei, Fantini e Mariotti tre quote la decidono per la squadra di incerti.